All'ospedale di Sant'Omero si è un po' in sofferenza in questi mesi, in queste settimane, nei vari reparti. La CGL, la FP CGL denuncia la mancanza soprattutto di personale medico. Sì, la carenza di personale medico è ormai una cosa cronica, solo che negli ultimi mesi si è avuto proprio un escalation di mancanza di personale medico che ci ha portato ad avere il reparti di medicina con solo 4 mesi perché adesso è andata in pensione una dottoressa, è andata in pensione anche l'attuale responsabile, in chirurgia il dottor Gizzoni è andato via per pensionamento, una dottoressa in maternità e sono rimasti lo stesso in 4 ed è un numero altamente insufficiente per poter coprire almeno i turni base, mancherebbero almeno due chirurghi e due medici di internisti, carenza personale ormai cronica in anestesia dove mancano proprio gli anestesisti e per questo anche il parto in dolore ancora non viene attuato proprio in regola. Insomma il gioiello che poi è il punto nascito, il gioiello di Sant'Omero in questo momento non sta facendo i numeri di sempre? No, con l'andata via del primario Patacchiola non si è sostituito questa figura con un altro primario e con il personale che comunque è esiguo rispetto a quello che potrebbero essere le potenzialità di questo reparto come tutti i reparti di questo ospedale che ha proprio potenzialità di produrre molto di più rispetto a quello che adesso viene fatto. La cosa singolare poi è che in questi giorni tra l'altro anche l'attac nuova di ultima generazione appena arrivata si sarebbe rotta, è vera questa notizia? Sì, ha rotta, non completamente ma ha avuto dei problemi tecnici e si è stato qualche giorno dopo aver fatto un mese e mezzo senza la vecchia TAC si è ulteriormente persa dei giorni di attività e quindi tutto si ripercuote sulle liste di attesa di queste prestazioni. Da molti anni denunciamo un po' questo, chiamiamolo immobilismo, verso questo presidio che ripeto ha delle caratteristiche che potrebbe produrre di più di quello che è però le risorse non vengono mandate, non vengono fatte, i concorsi non vengono espletati, sono tutti fermi, quelli di premariato, anche il concorso di infermieri si sta un po' prolungando rispetto ai tempi che erano stati descritti.